La Volkswagen Polo 2023 è tra le best-sellere in gamma VW e vanta ormai oltre 18 milioni di unità costruite, la Polo è una delle auto compatte di maggior successo al mondo. Scopriamola di più con le nostre FAQ, ossia scoprendo le domande che gli utenti web chiedono sulle best-seller del mercato automotive nostrano. La vettura ha subito un aggiornamento completo del suo design. Quindi, ecco un viso e una coda completamente ridisegnati, i paraurti e il bagagliaio hanno ricevuto un nuovo look, così come i fari e i gruppi ottici posteriori, che ora sono dotati di tecnologia LED, di serie. I fari a matrice di LED light sono opzionali. Il montante anteriore ci tagliato si inchina maggiormente, conferendo all'Apolo un dinamismo che sembra spingerla in avanti anche quando è ferma. Il design tridimensionale dei gruppi ottici posteriori conferisce un aspetto più distintivo alla sezione posteriore e una sensazione di presenza su strada enfatizzata. È presente il digital cockpit, il quadro strumenti, ora montato di serie, con uno schermo da 10,25 pollici, affiancato da una nuova generazione di sistemi di infotainment. Le funzioni di climatizzazione si trovano centralmente al livello successivo verso il basso. Presente anche l'integrazione wireless delle app tramite App Connect Wireless, viene fornito di serie in style R-Line, per Apple CarPlay e Android Auto. Motori a benzina Polo 1.0 MPI da 80 CV vapore Polo 1.0 TSI da 110 CV vapore i DSG-7 Polo 1.0 TSI da 95 CV vapore Polo 1.0 TSI da 95 CV vapore i DSG-7 Polo 2.0 TSI GTI da 207 CV vapore La Volkswagen Polo è nuovamente disponibile come 1.0 TG metano-benzina La potenza arriva a 90 CV vapore Volkswagen Polo 2023 è disponibile negli allestimenti Life, Style e R-Line con prezzi che partono, rispettivamente, da 21.350 euro e, per le due restanti versioni, da 24.000 euro Con la versione di base possiamo già avere cerchi in lega, Essex, da 15 pollici App Connect con funzione wireless Cruise Digital Cockpit da 8 pollici Radio Ready 2 Discover Directing